Nuovo lo spettro del ritorno al carbone causato da questa guerra. Si vogliono riaccendere a pieno regime quattro centrali a carbone nel nostro paese. Un combustibile fossile altamente inquinante, diciamo anacronistico per i tempi che stiamo vivendo. E tutto questo appunto in un'ottica di liberarsi dal gas russo, nonostante Eni comunque continui ad aprire conti in banche russe per poter pagare in rubli il paese. Ma già comunque con lo sguardo verso la Nigeria, verso il Congo, verso il Ghana e l'Indonesia per rifarsi delle perdite tramite i soliti processi di colonizzazione e strattivismo che conosciamo benissimo. Quindi come ben sappiamo il fossile da sempre legato al profitto è anche legato alla guerra e alla militarizzazione. Un esempio palese sono tutti i gasdotti come per esempio l'Est Med Poseidon che da Israele arriverà fino in Puglia passando per zone altamente instabili geopoliticamente e quindi andrà a giustificare una conseguente militarizzazione per proteggere giacimenti, infrastrutture per espandere confini di paesi già tra di loro in conflitto. Un esempio anche magari possiamo dire più simbolico del rapporto tra guerra e ambiente è la base militare che vogliono costruire nella riserva naturale protetta in provincia di Pisa che ha portato alla mobilizzazione dello scorso 2 giugno a Coltano. E insomma, mentre questo è il panorama che si delinea, a Trento vengono ospitati al festival dell'economia personaggi come Bonomi che sostiene che la transizione ecologica può aspettare. Perché? Per un momento di crisi, perché ci sono cose evidentemente più importanti in questo momento come fare la guerra. A rallentare la transizione ecologica comunque ci pensa già il nostro ministro Cingolani, anche lui invitato a parlare in questo festival. Per esempio nel PNRR solo l'8% poi dei fondi andrà in progetti ambientali mentre tutti gli altri andranno in progetti che nell'ambiente non c'entra nulla o addirittura dannosi per l'ambiente che ha un impatto negativo come la TAV o i continui investimenti sul fossile. Quindi noi vogliamo dire che non accetteremo più di non venire ascoltati perché siamo in un periodo di crisi perché da adesso in poi lo saremo sempre in un periodo di crisi. Grazie.